Abbiamo un esercizio in cui ci vengono indicati due circuiti composti entrambi da tre resistori collegati però in maniera differente. I circuiti sono dotati di due morsetti e ci viene detto che ai capi di questi morsetti viene misurata una potenza totale dissipata di 6 watt da parte di questi resistori. Ci viene chiesto di determinare la potenza dissipata da ogni singolo resistore. Cominciamo con il circuito di sinistra dove osserviamo sono presenti tre resistori collegati in serie il cui valore di resistenza non è specificato. Il circuito si risolve osservando che è la corrente I che attraversa questo circuito e la medesima che attraversa tutti e tre i resistori. I resistori infatti sono collegati in serie. Possiamo dunque osservare che la potenza del singolo resistore è pari ad R per I al quadrato. Questa è la formula della potenza dissipata da un generico resistore di valore R, di resistenza R, percorso da una corrente I. Ora tutti i resistori hanno valore R e tutti i resistori sono attraversati dalla corrente I. Non conosciamo né R né I ma abbiamo scoperto che la potenza di questo resistore è uguale alla potenza dissipata da quest'altro resistore che è uguale alla potenza dissipata da questo resistore. Sto usando S a ricordare che stiamo valutando la singola potenza di un resistore e non la potenza totale di tutti i resistori. Osserviamo dunque che la potenza totale dissipata è pari a tre volte la potenza dissipata dal singolo resistore. A questo punto è facile arrivare a dire che la potenza dissipata dal singolo resistore è uguale a un terzo della potenza totale e quindi un terzo di 6 W. Questo calcolo fa 2 W. Possiamo dunque affermare che ogni resistore di questo circuito sta dissipando una potenza complessiva di 6 W. Prendiamo adesso in considerazione quest'altro circuito, il circuito di destra, il quale presenta tre resistori, in questo caso il loro valore è espresso in Ohm, non è incognito, sono tutti e tre di 2 Ohm e il circuito, l'esercizio, ci vuole indurre a rispondere come abbiamo risposto nel primo esercizio. Cioè osserviamo che ai morsetti di questo circuito stiamo misurando una potenza dissipata totale da parte di questi resistori di 6 W e pertanto saremmo indotti a dire che ciascun resistore dissiperà 2 W come nel primo esercizio. In realtà c'è una notevole differenza tra questi circuiti perché mentre in questi resistori circolava la stessa corrente, qui abbiamo una corrente I che attraversa il primo resistore e poi si dirama qui in questo modo per poi appunto far ricongiungere queste correnti in quest'altro nodo. Quindi la corrente I una volta che si dirama in questi due rami sarà i mezzi da una parte e i mezzi da quest'altra parte. Pertanto su questi resistori circolerà una corrente che è pari alla metà della corrente che sta circolando in questo primo resistore. Questo ci fa capire da questa formula che il primo resistore avrà una certa potenza 2 per I al quadrato mentre questi altri resistori avranno una potenza, saranno dissipando una potenza pari a 2 Ohm ma per I mezzi al quadrato e quindi una potenza pari a 4 volte inferiore rispetto a quella dissipata da questi resistori. Possiamo anche calcolarla, abbiamo i numeri, possiamo anche verificare quali sono le potenze in gioco o facendo questo ragionamento oppure facendone un altro che è altrettanto interessante. Possiamo ad esempio calcolarci la corrente I che attraversa questo resistore. Per fare questo calcolo ci calcoliamo la resistenza totale vista ai capi di questi morsetti che è molto semplice. Occorre calcolare il parallelo di queste due resistenze, il parallelo di due resistenze di ugual valore uguale alla metà della resistenza di una delle due, quindi il parallelo di 2 Ohm con 2 Ohm, 2 Ohm in parallelo con 2 Ohm generano una resistenza da 1 Ohm che sommata a questa resistenza fa una resistenza totale di 3 Ohm. A questi morsetti stiamo quindi misurando una resistenza totale di 3 Ohm. Possiamo dunque calcolare adesso la corrente I nota anche la potenza totale, sapendo che la potenza totale da questa relazione è uguale alla resistenza totale per I al quadrato. Determiniamo I. I sarà quindi uguale alla potenza totale diviso la resistenza totale il tutto sotto radice quadrata. Abbiamo i numeri per calcolare questo rapporto e questa radice quadrata la potenza totale, intanto prendiamo la calcolatrice, radice quadrata di 6 W, potenza totale, diviso R totale che è uguale a 3 Ohm. Bene, questo viene 1,41. Questa corrente quindi che sta circolando nel nostro circuito è pari a circa 1,41 Ampere. A questo punto con questa corrente possiamo determinare le potenze dissipate da ogni singolo resistore. Chiamiamo questo R1, questo R2 e questo R3. La potenza dissipata dal resistore R1 sarà uguale ad R1 per I al quadrato e quindi R1 vale 2, I al quadrato vale 1,41 al quadrato. In realtà, se vogliamo essere precisi, questo è il rapporto tra P tot, che è 6, diviso R tot, che era 3, e questo è radice di 2. Lasciamola quindi questa I come radice di 2 in modo tale che questo calcolo venga più preciso. abbiamo che quindi R1 vale 2 per I al quadrato. I al quadrato è radice di 2 al quadrato. Questo è un calcolo ancora più semplice del precedente. Radice di 2 al quadrato fa 2 per 2 fa 4. E questi sono Watt. A questo punto è facile, anche già da qui, capire che gli altri Watt sono 2, gli altri Watt da dissipare, perché 4 più 2 deve fare 6, ovviamente. E siccome questi due resistori sono di ugual valore, sono percorsi dalla stessa corrente, cioè quella che si dirama da questo nodo qui, evidentemente dissiperanno un Watt a testa. Facciamo comunque il calcolo. La potenza dissipata da R2 è uguale a R2 per questa corrente qui, che abbiamo detto è uguale ad I mezzi. Quindi I vale radical 2, I mezzi vale radical 2 mezzi, il tutto al quadrato. Ricordiamo che dobbiamo fare R per I al quadrato. R2 vale 2 Ohm. Radical 2 mezzi vale 2 diviso 4. 2 per 2, 4 diviso 4 fa 1 Watt. Analogo calcolo verrebbe fuori se andassimo a fare anche il calcolo di PR3. Quindi PR3 sarebbe uguale a PR2 e quindi abbiamo stabilito che la potenza dissipata da questi resistori è pari a 4 Watt per il resistore 1, 1 Watt per il resistore 2 ed 1 Watt per il resistore 3. Complessivamente 4 più 1 più 1 fa 6 Watt, che è la potenza totale dissipata. In questo caso, pur avendo resistori di ugual valore, notiamo che la potenza da essi dissipata è differente, al contrario di quello che accadeva nel primo circuito dove i tre resistori avevano non solo ugual valore, ma erano anche collegati in serie. Bene, con questo abbiamo risolto l'esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima!